Il giorno di Cristo ricorda, bagliera l'intero universo, Gesù è del cuore di Sara, il mondo trostrato dal mare. Ascolta la voce autica, esclava e un vento ispirato, grande e figlia di Sio, raccogliono senza timore. A te il cuore è buoniere, paziente e genio Signore, tra l'arco e l'arco di Asia, e pace il suo volto di fronte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Sorelle e fratelli carissimi, questa Assemblea liturgica è preludio allo Pasco del Signore, alla quale ci stiamo preparando fin dall'inizio della cuorezza. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della Sua morte e risurrezione. Con fede viva accompagniamo il nostro Salvatore nel suo ingresso alla Città Santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino a una croce per essere partecipi della Sua risurrezione. Preghiamo. Benedici, oh Dio, questi rami di olivo e fa anche la celebrazione di oggi si compia e si perfezioni nell'amore che ci introduce nel piano della tua misericordia e solo ci dona di riportare vittoria a suo maligno che ci opprime. per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Amo. Ave la Suura Avevo i corponi e alla prossima e alla prossima figlio e alle strommen Sottotitoli Sant, Di permeare il Dio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.